La Commissione Sanità del Consiglio regionale ha detto sì all'unanimità ad un tavolo tecnico insediato al Dipartimento Sanità della Regione per individuare percorsi immediati per la presa in carico e la terapia dei pazienti colpiti da fibromialgia. Ad oggi la presa in carico di chi è affetto da questa patologia non può essere a carico del sistema regionale sanitario, per due ordini di motivi. Il primo è che la sindrome fibromialgica non è ancora stata riconosciuta dal Ministero come malattia cronica invalidante. Il secondo, legato al primo aspetto, è che non essendo riconosciuta rappresenta una prestazione extra-lea, cioè fuori dai livelli essenziali di assistenza, che non può essere erogata dalle regioni in piano di rientro, come appunto l'Abruzzo. Ieri c'è stata questa commissione consigliare all'Aquila che ha visto il voto unanime di tutti i consiglieri presenti sulla mozione presentata dal sottoscritto e dal collega Mario Quaglieri. Cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di istituire un tavolo tecnico, cosa che non era mai successo in Abruzzo in tutti questi anni, per la presenza di esponenti importanti del settore. Parliamo di esponenti dell'assessorato, esponenti delle associazioni nazionali che curano e che si prendono cura di questa patologia, per fare cosa? Per fare anzitutto un primo censimento, perché oggi non si conosce assolutamente il perimetro di questa patologia, per poi passare al secondo step, che è quello ancora più importante, ossia quello di cercare di far riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante e quindi di cercare anche un esonero o un parziale esonero dal pagamento dei farmaci. Noi sappiamo che c'è anche un gruppo di esperti di 15 reumatologi importanti a livello nazionale, tra cui il dottor Marco Cabini, che è il primario di reumatologia dell'ospedale di Pescara, che stanno lavorando proprio su dei registri per verificare tutti i casi, non solo abruzzesi ma anche nazionali.